Il settore della metalmeccanica sul territorio barese reagisce ma risente dei costi dell'energia e dell'aumento delle materie prime? Sicuramente, pesa il rincaro delle materie prime, pesa il cugno fiscale, pesano tutta una serie di aspetti che ci portiamo sulle spalle e che ci impediscono di correre, perché abbiamo nelle gambe l'energia per correre come industria meccanica, veniamo apprezzati dal nostro mercato, abbiamo ordini in corso, abbiamo voglia di assumere personale, però abbiamo la necessità che ci venga alleggerito il peso di tutto quello che ci siamo portati sulle spalle fino ad oggi. Un settore che reagisce le prospettive di occupazione e di produzione del settore metalmeccanico? Il settore reagisce, le prospettive sono importantissime, rispetto al quadro nazionale il settore metalmeccanico ha una richiesta di personale che arriva al 40% sul confronto nazionale, noi stiamo lavorando, ci sono notizie recenti, sull'attivazione di corsi di formazione per il settore della metalmeccanica, stiamo raccogliendo con un quadro analitico i fabbisogni delle imprese per formare personale che sia in corrispondenza alle loro attività, perché sicuramente negli ultimi anni quello che non è stato fatto è aiutare le imprese a inquadrare i loro fabbisogni di competenze e tradurli in attività formative, si è calata dall'alto la formazione pensando che andasse tutta bene, ma bisogna costruire una formazione che sia sartorializzata sui bisogni delle imprese, perché i bisogni delle imprese sono sempre più specifici e sono sempre più dettagliati.